L'anno passato è stato difficile per i fan delle celebrità di tutto il mondo. Abbiamo perso individui incredibilmente talentuosi che hanno lasciato un'impronta indelebile nell'industria dell'intrattenimento. Queste morti inaspettate hanno scosso i media, lasciando fan e colleghi sconvolti. Benvenuti! Oggi ci addentriamo nelle storie delle dieci morti più cliccate del 2023. Restate con noi per scoprire chi ha toccato il cuore del mondo quest'anno, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Nel 2023 abbiamo detto addio a figure straordinarie. Persone che, attraverso le loro vite e carriere, hanno influenzato profondamente la nostra cultura e il nostro modo di vivere. Ecco chi sono e perché il loro ricordo rimarrà immortale. Iniziamo con Maurizio Costanzo, un vero gigante della televisione italiana. Costanzo ha saputo conquistare il pubblico con il suo carisma unico e la sua capacità di raccontare storie, diventando un punto di riferimento nel panorama mediatico. La carriera di Maurizio Costanzo è costellata di momenti salienti. Dai suoi celebri talk show ai documentari, che hanno esplorato tematiche cruciali, Costanzo ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione, influenzando generazioni di giornalisti e conduttori. Il suo impatto sulla cultura italiana è stato immenso. Maurizio Costanzo ha saputo parlare al cuore delle persone, affrontando temi importanti con sensibilità e intelligenza. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nella vita di milioni di italiani. Silvio Berlusconi ha segnato la storia italiana con la sua presenza carismatica e controversa. Imprenditore di successo e fondatore di Mediaset ha saputo conquistare il cuore di molti italiani, pur rimanendo una figura divisiva e discussa. La carriera politica di Berlusconi è iniziata nel 1994 con la Fondazione di Forza Italia. È stato presidente del Consiglio in tre diverse occasioni, affrontando numerosi scandali e processi, ma riuscendo sempre a risorgere e a mantenere il suo potere. Il lascito di Berlusconi è complesso e controverso. Ha influenzato profondamente la politica italiana, introducendo un nuovo modo di fare campagna elettorale e di governare. Il suo impatto si estende anche all'economia e ai media, dove ha lasciato un segno indelebile. Matteo Messina Denaro è stato uno dei boss più ricercati di Cosa Nostra. La sua vita criminale è stata segnata da violenze e omicidi, rendendolo un simbolo del potere mafioso in Sicilia e oltre. La sua figura incuteva timore. La morte di Messina Denaro ha segnato la fine di un'era per la mafia siciliana. Dopo decenni di latitanza, la sua scomparsa rappresenta una vittoria significativa nella lotta contro il crimine organizzato, portando speranza per un futuro più sicuro. Dopo decenni di latitanza, la sua scomparsa rappresenta un duro colpo per l'organizzazione criminale e un segnale di speranza per la giustizia. Francesco Nuti è una leggenda del cinema italiano, noto per la sua comicità e il suo talento unico. Con film indimenticabili come Tutta colpa del paradiso e Caruso Pascoschi, ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori. La carriera artistica di Francesco Nuti è stata straordinaria. Ha saputo reinventarsi continuamente, passando dalla commedia al dramma con una maestria rara. Il suo stile inconfondibile ha lasciato un segno profondo nel panorama cinematografico italiano. L'arte di Francesco Nuti continuerà a vivere nei cuori dei suoi fan. Le sue opere rimarranno un punto di riferimento per le future generazioni di attori e registi. Il suo contributo al cinema italiano è inestimabile e indimenticabile. Queste personalità hanno contribuito in modo significativo al progresso nelle loro rispettive aree, arricchendo la nostra cultura e influenzando la società. Le loro biografie sono un tributo alla loro dedizione e passione, che continueranno a ispirare le generazioni future. Quale di queste personalità vi ha colpito di più? Condividete i vostri pensieri nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui prossimi video interessanti e storie emozionanti. Grazie infinite!